Qui invece riescono proprio ad entrare. Esattamente, sì. Ora sono entrati. Ecco le immagini dei malviventi che si introducono dal terrazzo di casa Viscome a Casale Sussile, immagini riprese da una telecamera di sicurezza dei vicini. Sono arrivati in macchina verso le 19.30 e dopo essersi arrampicati dalla grondaia, forzano la finestra di casa, ennesima notte dei ladri. Cosa è successo già da allora? Niente, allora sono entrati da qua ovviamente sforzando tutto. Hanno rovesciato tutti i vestiti di mia mamma, comunque nell'armadio, aperto comodini, tutti quanti comunque hanno aperto anche dove c'erano le cose un po' più intime, ecco. Gioielli, tutti quanti i nostri gioielli diciamo quotidiani, anche che noi possiamo mettere ogni giorno. Hanno addirittura alzato al letto per vedere se c'era o non c'era magari qualche cassettina con qualche piccola cassaforte e tutto quanto ovviamente era disteso sul letto. E nulla, qua comunque in camera era la parte dove sono concentrate di più. Di fatto si vede anche molto nei video che stanno molto tempo qua. Un appello, quello di Giada, a tutta la città. A tutti quanti, di stare soprattutto attenti perché comunque noi avevamo il cagnolino, grazie al cielo non gli hanno fatto niente, però sì, non è mai una cosa bella perché poi non si dorme bene, ecco. E il sindaco di Casale Sossile, Stefano Giuliato, risponde così all'appello. I carabinieri, sentito anche il comandante, sono sul pezzo, tanto più che noi avendo una quarantina di telecamere di contesto sul territorio, le indagini si stanno puntando anche su questo strumento che noi abbiamo adottato già da diversi anni per monitorare tutte le vie principali del paese.